Due vittorie di fila in campionato per rilanciarsi nella corsa ai play-off e dopo un nuovo innesto nel roster. Sono giorni importanti per la Delfest che ha vinto a Piacenza e da oggi mette nel primo mirino la N.P.C. Rieti che sarà l'avversario di domenica prossima sui legni del Pala del Mauro. Conto i laziali Crotti si ritroverà un esterno in più. Infatti è stata definita la trattativa con Lucas Fresno, classe 2004, guardia dalle spiccate qualità difensive e una buona attitudine in attacco che ha salutato il club ionico Taranto. Dopo la trafila nella sua Argentina con le canotte dello Sporting, de Mar del Plata e del Peñarol, Fresno è sbarcato in Italia nell'estate 2021 firmando con la Stella Azzurra Roma. Due stagioni nella capitale e poi in estate la Proda a Taranto con il Cusso Ionico Basket. Nelle 21 partite disputate finora con il Team Russo-Bun e il Gione B di Serie B nazionale, il giovane argentino ha viaggiato a 8,4 punti di media con il 40% da due, il 34% dall'arco e il 62% ai liberi. Da oggi comincia la sua avventura in Irpinia.